Oggi siamo a Loano, nella splendida fornice della sua marina, dove a poche centinaia di metri dalla riva giace il relitto della motonave Tiflis. Il Tiflis è adagiato in assetto di navigazione a circa 50 metri di profondità. Oggi pomeriggio andremo a realizzare un'immersione, dove speriamo di catturare delle immagini belle e piacevoli per tutti. Il relitto ha una storia molto particolare, in quanto questa motonave incrociava le acque anche stanchiloano il 14 gennaio 1943, quando un sommergibile inglese lo avvistò e con quattro siluri all'altezza della prua lo affondò in pochi istanti. Fortunatamente alcune persone arriva, videro l'accaduto e inviarono subito delle lanci di salvataggio in soccorso dei componenti dell'equipaggio, che furono quasi salvati completamente, tra lo meno per quello che sono le memorie del tempo. Vi auguro una buona visione di quello che seguirà. Grazie. 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione